Il presidente di mio movimento italiano ospitalità, buonasera, Paolo Bianchini, allora innanzitutto partiamo da questo perché rimaniamo in scia sul tema aumento dei costi, aumento delle bollette, aumento dei carburanti, aumento di tutto, sta diventando sempre più complicato lavorare in qualsiasi settore che abbia a che fare con l'energia, cioè tutti, e con l'agroalimentare perché abbiamo scoperto che una parte importante dell'agroalimentare arriva dai teatri di guerra, tra l'altro ieri parlavo con un ristoratore qui di Roma specializzato in quelle cose un po' tipiche della gastronomia romana, per esempio il famoso carciofolo giudia si deve fare con l'olio, mi diceva, con l'olio di semi di mais e quello diventerà o diventa, è già diventato quasi introvabile perché insomma il mais arriva prevalentemente appunto dall'Ucraina, quindi c'è proprio una parte che o si ricicla oppure dovrà cambiare, Paolo. Allora Stefano considera che già adesso i nostri distributori ci stanno razionando le consegne di olio e di girasore, tutto quello che è derivato da cereali e cereali sta mettendo in grossa difficoltà tutta la filiera dell'allevamento, sia bovino, sia ovino, sia caprino e così via perché naturalmente sono schiziate le stelle anche i mangimi e tra poco mancheranno negli allevamenti e quindi abbiamo già visto l'esempio di alcuni allevatori che non ce la fanno più ad allevare le bestie. Che succede? Che naturalmente oltre a la mancanza di materia prima c'è anche un'impennata dei costi derivanti da appunto l'aumento delle bollette. Oggi noi siamo stati totalmente abbandonati a noi stessi, da quando c'è Draghi al governo le nostre aziende sono state totalmente lasciate al loro destino e oggi noi siamo al punto di non ritorno, cioè l'abbiamo detto spesso che avremmo toccato il fondo, oggi con questa guerra maledetta che è scoppiata a due passi da noi siamo arrivati allo showdown come si dice in gergo e c'è ancora chi si ostina a parlare di restrizioni, di prolungamento di green pass e così via. Allora chiariamo una cosa per tutti. Anzi oggi più di prima perché hanno ricominciato a parlare dell'aumento della probabile sesta ondata e cose di questo genere veramente non si può sentire. Allora loro parlano, loro parlano però ci sono dei dati che sono oggettivi e i dati ce li ha dati oggi, scusate il gioco di parole, parole a Genas che è l'Agenzia Nazionale per la Sanità che è gestito dal Ministero della Sanità non da Paolo Bianchino da Mio Italia. Noi abbiamo una fotografia ad oggi di questi numeri. 5% di terapie intensive occupate, lo stesso giorno dello scorso anno eravamo al 33%. Siamo al 13% di occupazione dei letti nei reparti ordinari Covid contro il 37% dello scorso anno nello stesso giorno. Quindi il governo sappia una cosa. Noi l'abbiamo sempre osteggiato, tu lo sai, a noi il green pass non ci è mai piaciuto, al contrario di qualche altra associazione di categoria che l'ha benedetto appena il governo lo ha introdotto, ma sappia il governo che noi dal primo di aprile se prolungano l'esistenza del green pass ci rifiuteremo di controllarlo all'interno dei nostri locali. Basta e gli italiani devono sapere che se non esiste da parte di tutti gli italiani, anche coloro che sono vaccinati e che sono ormai arrivati al 97%, che questo strumento non è uno strumento di controllo sanitario, ma è tutt'altro, ma serve semplicemente a tracciare i movimenti degli italiani. Quanto spendono, dove vanno, quanti caffè prendono al giorno, quante volte vanno al ristorante, quante volte vanno dal parrucchiere e così via. O esiste da parte degli italiani un moto di orgoglio e di ribellione nei confronti di questo strumento, oppure noi saremo definitivamente schiavi di un'applicazione che deciderà se addirittura potremo corricarci. Comunque, da oggi in Francia non c'è neanche più l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso peraltro in Francia, per cui veramente la cosa curiosa è che, non lo so, al confine tu hai il confine tra la Liguria e la Francia a Mentone, sono liberi e passi il confine due chilometri e ti ritrovi col Green Pass e la mascherina, insomma, quindi è una cosa curiosissima. Hai fatto un esempio spettacolare, ieri parlavo con il presidente del distretto turistico di Stresa, una delle perle italiane, a Stresa che stanno a 5 metri dalla Svizzera vivono di turismo di prossimità e di turismo derivante dalla Svizzera e da tutte le parti dell'Alto Piemonte. Bene, con questa storia del Green Pass non sta arrivando nessuno, hanno avuto la tragedia del Mottarone, ve lo ricorderete, della funivia che è crollata, a quello ci aggiungi il Covid e a quello ci aggiungi che in Svizzera il Green Pass non esiste, ma in Italia sì. E ecco che la Spagna, se andiamo a vedere i dati, la prossima estate già è sold out, la Grecia altrettanto e in Italia, che è l'unica nazione che continua ad avere questo Green Pass maledetto, i turisti stranieri non prenotano, perché se a casa loro sono liberi di fare quello che vogliono, perché dovrebbero venire in vacanza in Italia per essere controllati nei movimenti e negli spostamenti? Basta sta parza. Ieri, appunto, sempre nello stesso posto, siccome c'erano un po' di scozzesi, c'erano gli scozzesi che erano venuti a vedersi la partita di rugby, l'ennesima sconfitta italiana, eccetera. Poi chiaramente ieri era una giornata di gran sole per cui hanno girato per il centro di Roma ed erano per fortuna tutti seduti a ristoranti e caffè. All'interno chiaramente obbligavano a mettere la mascherina e tu devi vedere che c'avevano questi, perché da loro proprio da moche non è obbligatorio. Tu li riconoscevi perché c'avevano le bandane, delle cose incredibili, perché non ci pensavano, non era nella loro mentalità. Il punto è questo, Stefano. Queste restrizioni che continuano a perdurare l'Italia hanno qualcosa di sanitario oppure dietro c'è la volontà di distruggere un intero comparto? Io inizio a pensare alla seconda, perché se continuano ad essere poste restrizioni soltanto in Italia è perché evidentemente devono favorire, chi sta al governo, la continua apertura di multinazionali del junk food, cioè del cibo monnezza, tanto per essere chiari, della spazzatura che in America la fa da padrone, in Italia noi ristoratori stiamo fallendo e una catena di fast food, non faccio il nome perché nemmeno la nomino, continua ad assumere migliaia di lavoratori ogni settimana in tutta Italia. Questa cosa è vergognosa. Non è possibile svendere l'anogastronomia italiana e un'esperienza di turismo che ci invita tutto il mondo a favore di chi vende monnezza. Non è possibile. Ah no, non è possibile ma è quello che sta succedendo. Allora io tra l'altro oggi sono andato a fare colazione, te lo dico così, in un bar simpatico, aveva dei cornetti molto buoni e c'era un cartello all'ingresso che diceva vabbè chi entra qui dentro si prende la responsabilità di avere il Green Pass, noi non ve lo controlliamo, non abbiamo altro da fare. Il bar era pieno. Sai che cosa c'è scritto nel mio ristorante? Ti dico cosa c'è scritto nel mio ristorante? Green Pass o non Green Pass siete tutti benvenuti. Mutui, affitti, stipendi, tasse e fornitori non me li paga lo Stato, li devo pagare io. Quindi benvenuti a tutti e accomodatevi. Anche perché oggi ce l'abbiamo tutti, tra vaccinati e guariti ce l'abbiamo tutti e quel 3% di italiani che rimane che non è vaccinato non lo convince nemmeno con la pistola alla tempia. Quindi liberi tutti e fateci vivere perché basta oggi avere la paura della guerra. Non va aggiunto a questo un altro aspetto che limita la libertà degli italiani. Basta. E la politica, se non farà questo, dal 1 aprile si assume la responsabilità di continuare a imporre uno strumento che non è sanitario, ma è di controllo. Sia chiaro. Beh, in effetti non c'è una spiegazione del perché debba continuare, visto che in tutto il mondo non c'è, francamente. Anche se poi di questi tempi, con le cose così serie e gravi che vengono con la benzina e il gasolio a 2 euro e 3, uno dice vabbè ma sta cosa del Green Pass è una cosa del passato. Vabbè, ma se è una cosa del passato, levatela, no? Cioè non si capisce perché debba rimanere. Cioè perché la stessa accusa che viene rivolta a chi ne continua a parlare potrebbe essere ribaltata. So che nel linguaggio dei social viene considerato questo uno gne gne gne, ma sta di fatto che se tu mi dici che è una cosa del passato, allora leviamola, no? Scusa. E soprattutto, Stefano, se il 31 di marzo finisce l'emergenza, il generale Figliuolo ha già detto che sta a fatto gli scatoloni e dal 1 aprile torna a fare il generale. Quindi se finisce lo stato di emergenza, di conseguenza vengono meno tutte le restrizioni. Altrimenti Draghi abbia le palle di continuare con lo stato di emergenza ma lo deve portare in Parlamento e i parlamentari se ne devono assumere la responsabilità e continua allora la storia del Green Pass. Poi starà a noi comunque continuare a non chiederlo perché questa storia deve finire. La politica purtroppo ha la pancia piena e non guarda chi ha la pancia vuota perché a 20.000 euro al mese siamo tutti buoni a dare le pacche sulle spalle all'imprenditore e a dire avete la nostra solidarietà. Qui stanno saltando le aziende e quindi questa gente si deve rendere conto che nel 2023 prenderà no i voti ma i calci in bocca se non la smettono di prenderci in giro. Ma qualche voto lo prenderanno sempre, quindi come si dimostra può diminuire la percentuale dei votanti ma poi quello che conta è la percentuale relativa. Ci saremo noi a ricordare agli italiani, non ti preoccupare Stefano. Tra l'altro, scusa, ma su sta cosa qua anche i critici del Green Pass hanno votato la conversione in legge del decreto che lo stabiliva, che prolungava comunque l'estensione del Green Pass. Non ti preoccupare, il primo aprile glielo ricorderemo noi a quelli che fanno i tweet, i post dicendo basta restrizioni, citando le varie nazioni in giro per l'Europa che eliminano le restrizioni e poi votano questi crediti. Tranquillo, il primo aprile a Roma glielo ricorderemo. Tranquillo.